Avrete sempre il filo della ragione che vi taglierà in due, ma da queste profonde ferite usciranno farfalle libere. Alda Merini Luminose, impavidi, brillanti, libere e indipendenti, sono donne. Ed è proprio a queste invincibili creature che è dedicata una corrispondenza speciale, un'esposizione, uno scambio di immagini, poesie e foto per rimarcarne la forza, la determinazione e il talento attraverso l'urlo silenzioso dell'arte. Ideato dall'artista romana Simona Sarti e realizzato in collaborazione con il primo municipio di Roma, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il progetto intende sostituire ai volti tumefatti e ai corpi ricoperti di lividi un'immagine femminile forte e splendente, motore di sviluppo e cambiamento. I lavori riprodotti su cartoncino formato 12x12 uniti da un unico filo rosso di lana sono centinaia e centinaia, consegnati a mano e inviati con tanto di francobollo, per tappezzare le pareti dell'ingresso degli uffici dell'anagrafe del primo municipio, per certificare simbolicamente una rinascita femminile. Gli autori sono artisti professionisti, studenti degli istituti d'arte, bambini, cittadini senza distinzione di genere, è un progetto che ha voluto celebrare la giornata contro la violenza sulle donne in maniera completamente diversa, non facendo vedere la violenza ma facendo vedere la valenza, la forza delle donne. Un progetto che unisce tantissime donne, uomini, bambine e bambini che hanno voluto realizzare queste cartoline, delle cartoline 12x12 che ci sono arrivate al municipio, quindi proprio una vera corrispondenza. In queste cartoline ognuno ha celebrato la forza delle donne come meglio credeva, con un dipinto, con un disegno, con una frase, con una poesia. Tutte queste cartoline sono unite da questo grande filo rosso che ricorda invece la violenza e come uscirne. Sorride donna, sorride sempre alla vita, anche se lei non ti sorride, sorride l'amore finito, sorride ai tuoi dolori, sorride comunque. In Italia i casi di femminicidio si espandono a macchia d'olio, di anno in anno. Ogni 72 ore una donna muore per mano di un uomo, un fratello, un padre, un amico, un amante, un marito, un ex, semplicemente per non aver ubbidito, per non essersi sottomessa. Vittime di molesti, abusi, maltrattamenti causati il più delle volte da due moventi, gelosia e possesso derivati dall'ignoranza. Denunciare senza vergogna e paura è il primo passo verso la libertà. La cultura, in questo caso l'arte, può essere una potente arma di sensibilizzazione e prevenzione.